Il mercato di Brighton, a Londra, l'esercito della salvezza è di casa, ma oggi ha cambiato repertorio. Non più inni, lenti e maestosi, ma canzonette. I jukebox hanno fatto scuola anche negli ambienti più tradizionalisti. Si mettono al passo con i tempi, vedrete che prima o poi scrittureranno Rita Pavone. Questo numero è una creazione del gruppo dei Joy String, è un segreto per modo di dire, è intitolata la canzonetta, e la gente non sa più se vogliono salvare un uomo che sta per perdersi o se vogliono lanciare un disco a successo.